Terra Mara. Mujigan falsifica il test di gravidanza per impedire la fuga di Ilmaz. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Le anticipazioni di oggi di Terra Mara riguardano un episodio in particolare che vede protagonista la dottoressa Mujigan intenta a trarre in inganno suo marito per far sì che non se ne vada. Ma attenzione questo è uno spoiler per cui se non desiderate sapere fatti importanti per la trama della serie prima che vengano mandati in onda non guardate questo video. Ma se siete amanti e curiosi soprattutto delle spoiler siete sul canale giusto. Ilmaz scopre che Mujigan ha diffuso voci false sul tradimento con Fikere per trattenerlo. Arrabbiato Ilmaz la porta da Zuleyla per avere spiegazione. Mujigan ammette di non essere incinta e tutti rimangono sconvolti a questo punto. Ilmaz minaccia Mujigan e promette che pagherà le sue azioni. La discussione si intensifica ma i Fekeli e Beice cercano di calmare un po' la situazione. Successivamente Fekeli rimprovera sia Mujigan che Beice per essere coinvolte nella questione. Infine Ilmaz ordina a Mujigan di andarsene con Beice. Ma entriamo proprio nel racconto e nella trama di Terramara. Mujigan è di nuovo incinta ma dietro alla sua gravidanza si nasconde qualcosa. Infatti degli uomini credono che sia frutto della relazione che la dottoressa ha con Fikere una relazione segreta di questi uomini. Stanno discutendo fino a quando Cetin non si batte in queste voci e cerca in tutti i modi di tenere nascosto a Ilmaz ciò che si dice in giro. Purtroppo però è già tardi e il pettegolezzo giunge anche a Ilmaz il quale, sopraffatto dalla rabbia, decise di recarsi da Fikere. Cetin, vedendo il suo amico infuriato e intendo ad affrontare il cugino, non perde tempo ad avvisare Fekeli e Mujigan. Svelano loro così che è successo. Nel frattempo Ilmaz arriva da Fikere e puntandogli la pistola contro lo esorta ad ammettere il tradimento. Fikere però davvero non sa nulla di questa storia e gli assicura che non ha nulla a che fare con sua moglie. La caia ormai ha perso la testa ma per fortuna arriva al suo padrino che riesce a calmare Ilmaz e con lui anche Mujigan che ammette di aver messo lei questa voce falsa in giro soltanto per ostacolare Ilmaz nella partenza e impedire a suo marito di abbandonare il loro piccolo Kerem. La confessione di Mujigan sconforta tutti i presenti e si giustifica dicendo che secondo lei era l'unica cosa da fare in quanto sapeva che suo marito sarebbe fuggito con Zuleila per evitare ciò ha pensato di mentire. A questo punto Ilmaz viene pervaso da un senso di amarezza nei confronti di Mujigan ed è la situazione che ha avuto il coraggio di creare e abbassa la pistola contro Fikere. La dottoressa spiega anche di aver rubato un test di gravidanza di una paziente incinta e di averglielo mostrato e si giustifica dicendo di aver fatto tutto questo soltanto per il bene di Kerem e per impedire quindi che Ilmaz se ne andasse via. Quest'ultimo di fronte alle parole di Mujigan non ci vede più e la afferra per un braccio tirandola Fikere esorta il suo figlioccio a lasciarla mentre Mujigan disperata percrega Ilmaz di non andarsene. La caia però è furioso e le ordina di salire in auto e a tutti gli altri di non mettersi in mezzo. L'aria è molto tesa e Ilmaz se ne va con il seguito il suo padrino. Dall'altra parte Fikere è deluso dal comportamento di suo cugino nei suoi confronti e lo accusa di aver tentato l'omicidio. Così decide di andarsene e prepara le valigie. Ovviamente Beige che è lì e che lo vede curiosa gli chiede che stia succedendo ma il giovane non le risponde. Tuttavia la donna continua a stargli dietro con l'intenzione di farsi dire qualcosa. Ilmaz invece arriva a casa di Zulela trascinandosi anche Mujigan e una volta davanti alla ragazza Ilmaz la costringe a parlare. Inizialmente non apre bocca ma poi costretta dopo che Ilmaz ha sparato un colpo di pistola in aria confessa alla moglie di Demir che nel frattempo era giunto anche lui sentendo lo sparo di non essere realmente incinta. Zulela è sconvolta e non riesce ancora a capire bene la situazione come tutti gli altri del resto. Ecco perché chiede spiegazioni a Mujigan per aver mentito su una cosa del genere così importante. Nel frattempo Demir chiede a sua moglie il motivo di tutto questo suo interessamento facendole notare che ciò che riguarda la famiglia di Ilmaz non dovrebbe riguardare lei. Così lo Yaman ordina a Ilmaz di lasciare la villa per evitare che la situazione si complichi ma Ilmaz prima di andare via assicura a Demir che un giorno si riprenderà la sua vita insieme a Zulela che gli è stata tolta tempo fa. Così possiamo ben capire che presto assisteremo a un nuovo scontro tra Ilmaz e Demir. Intanto Ilmaz rientra nella sua villa trascinando con sé a Mujigan che nel frattempo non smette di piangere. Vedendo la nipote disperata Veice rimprovera Ilmaz per come sta andando. Mujigan continua a giustificare le sue azioni mentre Ilmaz ha cercato dalla rabbia l'accusa di averlo tratto in inganno e di aver tradito la sua fiducia. Mujigan però gli spiega che ha fatto tutto questo solo per timore di perderlo per sempre e la discussione si anima sempre di più. La zia di Mujigan tenta di calmare il loro animo ma le urla di disperazione e rabbia sono più forti di qualsiasi altra cosa. Mentre Veice chiede a sua nipote che è successo qualcosa al bambino arriva Fecheli e Veice gli si rivolge subito lamentando il modo in cui Ilmaz sta trattando una donna incinta. Alir Ahmed però la zittisce furioso e subito dopo rimprovera Mujigan per ciò che ha fatto. Veice si mette di nuovo in mezzo ma Fecheli la zittisce ancora una volta accusandole di essere stata complice in questa storia ma la dottoressa si prende tutte le colpe tenendo fuori da questa situazione sua zia Veice. Fecheli però diventa sempre più nervoso e lamenta il fatto di aver fatto tutto ciò che nonostante lui sia stato sempre disponibile l'abbia sempre aiutata per Simon nelle situazioni più critiche con Ilmaz e che è andato anche contro il suo figlioccio a volte per cercare di fargli continuare il loro matrimonio credendo che stesse facendo la cosa giusta ma stavolta Mujigan è andata oltre creando una spiacevole situazione per tutta la famiglia e mettendo a rischio anche la vita del giovane Fikaret. Fecheli è molto arrabbiato con la dottoressa e le ricorda anche di averla aiutata quando tentò di uccidere Zuleila ma le sottolinea che stavolta l'ha fatta troppo grossa perché non ha avuto un senso a tutto questo. Mujigan tenta ancora una volta di farsi capire e di giustificarsi dicendo di aver sentito parlare suo marito e Zuleila di una fuga insieme ma Fikaret alza ancora di più la voce facendolo capire che avrebbe dovuto parlargli e discuterne con lui invece di architettare tutta questa messa in scena mettendo a repentaglio la sua famiglia e la vita di Fikaret. In lacrime Mujigan dice che voleva solo il bene di suo figlio ed evitare l'assenza di un padre. Ora però Ilmaz ha perso la pazienza e lasciandole del denaro sul letto le dà pochissimo tempo per fare le valigie ed andarsene insieme a sua filosofia. Dopodiché Fekeli e Ilmaz se ne vanno da quella stanza mentre Beice in preda all'ira rimprovera la nipote per aver mandato tutto a rotoli. Riusciranno a risolvere i loro conflitti e a ricostruire le loro relazioni? Scrivetemelo nel commento voi cosa ne pensate mentre poi noi lo scopriremo continuando a guardare le prossime anticipazioni su questo canale iscrivendovi al canale e regalandomi il vostro like. Al prossimo video!